Musica Siglata nell'istituto scolastico di Pozzilli una convenzione tra Comune di Pozzilli, Fondazione Neuromed e Istituto Comprensivo Leopoldo Pilla. A firmare il protocollo il sindaco Stefania Passarelli, Mario Petrocupa, presidente della Fondazione Neuromed e la professoressa Maria Pia Tomassetti, dirigente scolastico dell'Istituto Pilla. L'accordo prevede la promozione non solo di seminari di formazione e informazione agli studenti sui corretti stili di vita e sulla cultura della prevenzione, ma garantirà consulenze sanitarie e screening gratuiti nei settori cardiologico, oculistico, fisiatrico e neurologico. Ma intanto merito del sindaco che ha lanciato un appello nel volerci coinvolgere in questo progetto di prevenzione, che va anche al di là della prevenzione perché si tratta in effetti di assistenza, si tratta di mettere a disposizione degli studenti, degli specialisti per quelle che sono le branche di competenza dell'IRCS Neuromed. Ritengo che sia un fatto molto importante perché da questi screening, queste visite che vengono effettuate, possono a volte davvero prevenirsi anche patologie serie. Io ritengo che le istituzioni debbano essere sempre direttamente a contatto tra loro, in un rapporto sinergico. Questa è un po' la nostra missione, la missione della fondazione, di stare tra la gente, di far percepire sempre più questo messaggio di vicinanza senza aspettare che ci siano altri che dall'alto ci calino addosso delle soluzioni. Lì dove sono carenti noi senza troppa retorica e senza far chiasso ci mettiamo a disposizione perché riteniamo che fondamentalmente sia il cittadino al centro dei nostri interessi. Tutte le attività saranno eseguite presso il plesso scolastico Pilla di Pozzilli dal personale medico dell'IRCS Neuromed, un progetto in linea con l'impegno della fondazione Neuromed di promozione della ricerca biomedica e scientifica legata alla prevenzione. La prevenzione è fondamentale proprio perché il rischio, ecco, quando si riesce a prevenire il rischio, si riesce a prevenire anche il danno sia fisico sia mentale. E quindi è un discorso molto ampio che investe sia la sicurezza dal punto di vista dell'indirizia scolastica e sia la sicurezza dal punto di vista della prevenzione delle malattie, delle epidemie, del contagio eventuale che nella scuola purtroppo può verificarsi in modo più pesante rispetto ad altri contesti. Quindi nella scuola soprattutto la sensibilizzazione dei ragazzi e quindi l'educazione alla prevenzione proprio rivolta ai ragazzi, la formazione dei docenti che è essenziale e di tutti quelli che sono gli attori della comunità educante perché se si riesce a sensibilizzare l'alunno e tramite l'alunno anche la famiglia e se noi educatori soprattutto siamo sensibili si può veramente attivare il sistema educativo integrato e si può fare prevenzione a 360 gradi. Un esempio di fattiva collaborazione tra enti locali, istituzioni e mondo della scuola. Il fine ultimo donare alle future generazioni tutte le possibilità di una crescita culturale a 360 gradi. È un impegno dell'amministrazione comunale puntare sulle scuole, abbiamo firmato un protocollo quest'anno ma in effetti già dall'anno scorso la fondazione Neuromed e l'istituto Neuromed ci avevano consentito di fare questa prevenzione con dei professori che sono venuti a parlare di droga, visitare i ragazzi quindi quest'anno è stata una formalizzazione ma di un percorso che era già iniziato. Abbiamo consegnato una scuola che è un modello di scuola, una scuola bellissima, antisismica e grazie al contributo di tutte le aziende del nucleo industriale le abbiamo potute anche arredare. Quindi penso che dalle scuole abbiamo iniziato, con le scuole continueremo e tutto ciò che possiamo fare per le scuole siamo sempre a completa disposizione.